Il vostro lavoro è meritorio, però rendiamoci conto di uno Stato, di un Paese nel quale una trasmissione televisiva, allora c'è un parlamentare che promette che chiamerà il Prefetto domani, che risolve la situazione, o almeno dice di dare una speranza per la risoluzione di un problema aziendale e lo fa tutta una trasmissione televisiva, ma che Paese è? Qua è un problema generale che non riguarda certo, e logicamente siamo tutti vicini a queste famiglie che sono in difficoltà, ma quante ce ne sono che non riescono a raggiungerla Paola e non raggiungere i suoi inviati, che sono nella stessa identica situazione e che quindi purtroppo non riceveranno la telefonata del parlamentare X o Y, il tema è un tema generale, purtroppo la politica anche economica del governo è una politica parlamentare, i dati citati sono assolutamente corretti, perché non mi ha citato per esempio i dati di Poletti, quelli che qualcuno si è sbagliato erano dati, errori umani sono stati definiti, dati da un Ministro della Repubblica.